Nelle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello si legge che Consob sapeva di questo dissesto di Banca Etruria. Noi peraltro avevamo sempre sostenuto che le autorità di vigilanza erano a conoscenza della situazione delle Banche Etruria. Banca Italia perché aveva mandato il tempo degli ispettori già nel 2012 e anche nel 2010. Il Consob ha sempre detto che Banca Italia non l'aveva informata, noi avevamo dei dubbi e in realtà la sentenza della Corte d'Appello di Firenze fa pensare una cosa, che qui c'era praticamente una sorta di associazione a delinquere. Lo posso dire con tutta franchezza perché che Consob sapesse e non avesse messo in atto nessun meccanismo che avesse impedito di emettere soprattutto i bond del 2013, visto che le sapevano il 2013, con i quali sono stati rastrellati 120 milioni dalle tasche dei risparmiatori e che il Consiglio di amministrazione, consapevole del fatto che la Banca era in quelle condizioni, ha emesso quelle obbligazioni con la complicità di Consob, grida vendetta da tutti i punti di vista. Adi Consum sta già contattando i propri associati per un'azione proprio nei confronti a questo punto di Consob e Banca d'Italia. Voi avete già pensato a cosa fare? Noi non abbiamo ancora deciso cosa fare, è chiaro che subito dopo 5 agosto il periodo è anche un periodo particolare, ma comunque noi ci vedremo per decidere di alfarsi. Però voglio ricordare che noi abbiamo già intrapreso un'iniziativa, non è contro Consob e Banca d'Italia, ma insomma la Pricewaterhouse è una società di revisione che obbligatoriamente le banche hanno, che di fatto è una sorta di lunga mano della Consob, perché è l'autorità di vigilanza che dovrebbe garantire il mercato, quindi gli risparmiatori, circa l'assolvibilità di una banca, circa il fatto che una banca è pienamente solvibile nei confronti di coloro che gli prestano denaro. Avevamo visto giusto a indirizzare questa nostra iniziativa contro la Pricewaterhouse, perché di riflesso questa decisione della Corte d'Appello di Firenze è una sorta di incentivo ad andare avanti in questa direzione, perché indubbiamente non sono stati garantiti neanche attraverso l'intervento della società di revisione i risparmiatori, perché indubbiamente si doveva sapere anche attraverso le ispezioni e le lettere che ripetutamente aveva inviato Banca Italia al Consiglio di Amministrazione, lo stato di salute di questa banca.